Amiche e amici che siete in ascolto, un caro saluto da Denise Arcieri. Sono a casa della famiglia Tamer, insieme a Don Innocenzo Mascali, parroco della Chiesa Madre di Comiso, Santa Maria delle Stelle, a Gabriele Vaccaro e a Luca Scollo, parrocchiani della Chiesa Madre. La famiglia Tamer vive a Comiso da nove mesi e è arrivata in Italia lo scorso ottobre attraverso i corridoi umanitari. Una proposta concreta per affrontare la questione delle immigrazioni, evitando le morti in mare e l'immigrazione illegale, il traffico di esseri umani. Rappresenta una via di accesso legale e sicura in Europa. Nati nel 2016 è frutto di un protocollo d'intesa tra la Comunità di Sant'Egidio, la Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, la Tavola Valdese, la CEI Caritas e il Governo Italiano. Innanzitutto chiederei a Padre Innocenzo, a Gabriele e a Luca di raccontarci com'è nata l'idea di sposare questa iniziativa. Venuta da parte di Gabriele Vaccaro, è un'idea di accogliere nella nostra comunità parrocchiale una famiglia siriana. All'inizio ci siamo messi un po' a dialogare sulla possibilità, sul desiderio, insomma, di poter far nascere un gruppo che promuovesse questa iniziativa. Dopodiché si è passati piano piano a una fase di desiderio e di volontà di accoglienza. Per cui ci siamo riuniti, insomma, ho contattato anche alcuni dei parrocchiani che erano disponibili a questa iniziativa e abbiamo iniziato a riflettere insieme su questa possibilità e piano piano a far maturare il desiderio. Raccontateci, infatti, come si è passati dall'idea invece all'organizzazione concreta di questo momento di accoglienza. Tanto grazie per questa opportunità. Ci tengo a dire che questa esperienza è nata in un contesto Covid, è nata anche alla luce di esperienze gemelle, in particolare un'esperienza gemella che si è realizzata a Santa Venerina e a Modica. Cosa è successo? Attraverso questa testimonianza online di queste persone che avevano accompagnato queste famiglie siriane che sono frutto di questo protocollo intesa, in pratica Comità Sant'Egidio apre le porte tramite i corridoi umanitari, Operazione Colomba, che fisicamente sta nei campi profughi, fa una sorta di discernimento fra i casi che sono quelli più particolari per poterli accompagnare qua in Italia. Come dicevi tu è un accompagnamento legale che però non prevede nessun supporto dal punto di vista del governo, dal punto di vista finanziario. Quindi la sfida è stata quella di creare nel territorio una sinergia che significa sensibilità, attenzione, volontariato e svolgere anche delle attività concrete, perché poi in questo si traduceva, e trovare anche le risorse che accompagnano un progetto, che non è un progetto che richiede risorse una tantum, un progetto che va accompagnato nel tempo. Infatti l'idea non è un atto di beneficenza ma un atto di consapevolezza. Loro vivevano in una situazione in cui, diciamo, di benessere relativo in un territorio, un contesto, dove il ceto medio era abbastanza anche esteso e diffuso. Quello che abbiamo fatto è prendere spunto da questa testimonianza che è venuta online. L'abbiamo tradotta in un incontro avvenuto in carne ed ossa, un'occasione che, grazie a Padre Innocenzo e a tutti i parrocchiami, abbiamo realizzato attraverso la testimonianza appunto della famiglia siriana ammodica. E là è stato il punto di svolta, perché da una fase preparatoria online, in periodo Covid, in cui non era difficile incontrarci, è stato complicato, ho detto qua ho lavato la spacca. E lavato la spacca è stato l'incontro in carne ed ossa con queste persone che sono venute a testimoniare, non tante parole, perché la loro testimonianza è stata una testimonianza diretta di volti, di espressioni, di emozioni. E quello che ci ha aiutato è sicuramente trovare all'interno della parrocchia una sinergia, delle energie incredibili, è come seminare un terreno fertile. Perché la sfida è stata, ok, noi accogliamo questa sfida, naturalmente senza la provvidenza non si va da nessuna parte, sembra facile dirlo, ma non è così. Fino all'ultima settimana, Luca lo sa, non riuscivano a trovare neanche un appartamento per poter affittare con loro. Lui era venuto due mesi prima perché c'era il rischio che se rimaneva ancora in Libano lo riportavano in carcere e non si sa che cosa sarebbe successo dopo. Nel frattempo la moglie era incinta, quindi c'è stata un'accelerazione e là la provvidenza ci è venuta incontro perché abbiamo trovato anche grazie alla sinergia con Luca e sua moglie in affitto questa casa dove siamo ora. E naturalmente il percorso continua. Uno dei primi titoli dato volutamente un soffio di pace fra venti di guerra è ben altro. Noi dobbiamo creare sul territorio un'idea di pace. Grandi alla terra in questo momento non sono capaci di fare la pace. Non voglio dimostrare sul territorio, noi gente comune, nel vissuto quotidiano che costruire dei percorsi di pace perché troppe notizie brutte sulle regioni della guerra ma ci sono queste belle notizie che anche grazie a voi riusciamo a diffondere dal basso di percorsi di pace. Gabriele ha parlato di un percorso fatto di consapevolezza, di una scelta concreta la scelta di condividere questa esperienza all'interno della comunità e infatti ora vorrei che voi parlaste di cosa ha mosso questa esperienza in termini di vicinanza, solidarietà, condivisione di questo progetto nella comunità. La cosa bella di tutto questo è che qualcosa che non avevamo progettato noi stiamo camminando in una strada che non abbiamo preparato prima è un camminare tranquilli e sereni pensando di fare una cosa che è banalissima cioè non è giusto che una famiglia viva ciò che hanno vissuto loro essere sradicati dalla propria terra che per loro quando vanno in campagna qui gli si inumidiscono gli occhi perché vedono la stessa natura che avevano là non è giusto che una famiglia perda tutto questo, perda la dignità, perda la speranza perda il futuro per i propri figli e quindi noi nel nostro piccolo stiamo provando a dare questa dignità la particolarità di questa famiglia che è venuta da noi è che è venuta il 7 ottobre mentre là si sparava, mentre succedeva quello che succedeva tra i palestinesi e gli israeliani loro viaggiavano da Roma a Comiso con un furgone prestato da un'associazione sportiva e tutto questo che nasce quel giorno e che coinvolgeva circa 15 persone della parrocchia oggi possiamo dire che coinvolge Comiso perché quando abbiamo bisogno di qualcosa e chiediamo, bussiamo alla porta che pensiamo possa darci una risposta, la risposta non solo arriva subito ma arriva bella e piena alla nostra domanda per esempio ci serve un mezzo di trasporto per Caled per poter andare a lavorare in 6 minuti abbiamo avuto la bicicletta elettrica in 6 minuti la telefonata l'ho fatta, la risposta è stata ci sentiamo la prossima settimana abbiamo staccato e chi ha donato questa bicicletta ha richiamato dicendo quando sento queste cose non riesco a stare con le mani in mano domani andate al negozio e prendetevi la bicicletta e questo è successo su tutto il resto, è successo su Naser che è un bambino di 10 anni ha tutto il diritto di giocare forse ha più diritto dei nostri bambini di giocare, lui che ha visto quello che ha visto abbiamo chiesto a una scuola calcio, senti noi soldi non ne abbiamo dobbiamo pensare a ciò che è più importante, più importante tra virgolette che fa, lo possiamo portare a giocare a pallone non ci sono problemi, portatelo domani potremmo fare un elenco infinito di queste cose quindi quello che produce questa esperienza è una cosa che non possiamo pesare ma sappiamo che pesa molto e poi se vogliamo parlare di ciò che ha fatto all'interno del gruppo che ha iniziato questo percorso è qualcosa di bello, di simpatico perché ci siamo trovati persone che sono abituate, come dire, a dividere quello che hanno non a dare il superfluo ma a dividere proprio quello che hanno, mettere a disposizione che c'è bisogno di un vestito, dobbiamo trovare una culla, dobbiamo pagare la bolletta tutta gente che nel proprio trascorso fa di questa, chiamiamola carità semplice, immediata, tranquilla, un percorso di vita e incontrarsi e lavorare su questo percorso tutti insieme è un arricchimento personale perché appunto ci si è ritrovati tra belle persone non è uno sviolinamento ma è proprio per dire che ci sono tante persone sparse per il mondo e quindi questo è un progetto che porta a parlare di giustizia, di dignità e di pace certo, come diceva Gabriele, i nostri governanti per adesso hanno difficoltà a parlare di pace noi ne vogliamo parlare in questo modo se ne parliamo tanto forse saremo capiti se non ne parliamo certamente nessuno capirà Padre Innocenzo, in che modo questa esperienza sta arricchendo la comunità anche come dialogo interreligioso? Sono diversi le ricadute di questa esperienza vissuta insieme, innanzitutto come comunità parrocchiale già per quello che è stato detto nel senso che già ha smosso moltissimo la carità di tanti dei nostri parrocchiani come diceva Luca ciascuno condivide proprio quello che ha e quello che è anche a livello di tempo di possibilità non solo economiche ma anche appunto di tempo di desiderio, di volontà, insomma, di condividere ecco e questo è già un grande passo per la comunità secondo me poi ci sono stati diversi momenti di incontro tra la comunità grazie alla famiglia Tamer che è il perso, insomma, di questo nostro progetto con delle altre famiglie non solo della nostra comunità parrocchiale ma anche di un'altra comunità parrocchiale che è quella delle Grazie che ha sposato poi insieme con il parroco il nostro progetto e anche altre famiglie di Comiso che ormai risiedono a Comiso da diversi anni ma sono famiglie extracomunitarie con la guida anche dell'imam Hamid e sono stati degli incontri di fraternità degli incontri dove abbiamo condiviso la bellezza anzitutto dello stare insieme abbiamo condiviso anche un pasto comune dove ognuno quindi ha condiviso, ha portato un cibo della propria cultura, della propria terra e poi abbiamo condiviso anche diversi brevi ma intensi momenti di preghiera l'imam pregando e poi traducendo la preghiera che faceva in arabo dall'arabo all'italiano e noi pregando nella nostra lingua e poi l'imam faceva la traduzione in arabo per gli altri presenti uno scambio culturale e interreligioso che chiaramente dà veramente un frutto di gioia e di pace nel senso profetico perché chiaramente il nostro è un piccolo segno di pace come si diceva fra venti di guerra crediamo fortemente che tanti piccoli segni di pace il nostro, quello magari della comunità di Modica e quello di tutte le altre comunità messi insieme possono diventare un disegno di pace da segni a un disegno di pace il prossimo 7 giugno si svolgerà un'iniziativa Accendi la pace anche un piccolo gesto conta come sarà articolata nello specifico? sì anche questo evento fa parte dei momenti che sono caratterizzati da qualcuno che conosce questo progetto lo sposa e si mette subito a disposizione è un gruppo di musica celtica si chiamano Tirna Nog e quando abbiamo chiesto ma noi abbiamo pensato di fare un concerto per raccogliere qualche fondo ma voi sareste disponibili la risposta immediata è stata sì con una piccola difficoltà per andare a incastrare con i loro impegni la data è stata trovata e questo incontro vuole appunto mettere tra le note musicali il messaggio di pace che vogliamo dare il messaggio è sempre quello questa famiglia rappresenta coloro a cui la violenza e la guerra toglie la dignità io ripeto sempre le stesse cose ma dignità, giustizia, libertà sono valori così alti e così imprescindibili e così normali che ogni essere umano debba avere che quando vengono violentati in questo modo mi si rivoltano un po' le viscere praticamente e sapere poi che quei posti erano posti veramente belli di grande bellezza distrutti come sono stati distrutti e si continuano a distruggere e lo noi vogliamo spiegare con questa famiglia che magari non è così difficile come si pensa portare qui qualcuno di quelle persone e ridare loro un po' di futuro e un po' di dignità certo la cosa bella sarebbe farli tornare nella propria terra ma purtroppo la propria terra è devastata e quindi la cosa si complica ripeto da questo evento che faremo il 7 giugno sicuramente ne nasceranno altri perché come diceva Gabriele noi vogliamo che questa famiglia diventi non solo simbolo ma diventi proprio esempio vivente e magari coinvolgere non solo le istituzioni in questo percorso magari questo territorio può diventare un territorio che parla di pace e non solo un gruppo di cittadini che parlano di pace Padre Innocenzo prima parlava di segni di pace per costruire insieme un disegno di pace mi è piaciuta molto questa cosa vorrei chiedere a Luca e a Gabriele cosa significa per voi scegliere concretamente di essere operatori di pace animatori di pace nel quotidiano innanzitutto non sentirsi mai comodi sentirsi molto scomodi e c'è una splendida poesia che Padre Innocenzo ci ha dettato trasmesso nell'occasione del primo incontro perché scomodità significa essere inquieti e inquieti significa non accettare lo status quo lo status quo è la guerra ma noi non lo accettiamo perché la guerra come gli eventi politici economici sono fattori umani e noi sul fattore umano ci giochiamo la nostra partita perché fondamentalmente la pace significa come diceva Luca giustizia significa ridare felicità se noi assaporiamo in alcune parti della nostra giornata il senso profondo della felicità è anche grazie a questo percorso che stiamo facendo insieme perché questo percorso ha unito persone anche provenienza diversa di attività volontariato diverso con un'unica idea di ridare speranza a persone che speranza non avevano ma questo non è tutto siccome noi siamo volutamente persone inquiete a cui non piace la comodità e siccome soprattutto ci hanno comunicato che attualmente in Lipano c'è una situazione che è molto ma molto peggiorata andava male prima perché già le persone siriane erano trattate come persone di serie B non accedevano a tutta una serie di servizi sanitari e scolastici molti vivono in campi profughi ma ora che la situazione è esplosa nel Mediorente questa situazione è molto peggiorata allora qual è la sfida che ci vogliamo lanciare che ci proponiamo e che naturalmente se sarà dovrà essere raccolta non da questo gruppo promotore che un po' anima il percorso ma dalla comunità intera se ci riusciamo vorremmo provare a far venire con lo stesso corridoio umanitario anche il fratello e la sua famiglia ma per un motivo che va oltre il legame familiare il motivo è che Nasser che ora non conoscete perché è la scuola di calcio è cresciuto con il fratello di Caled ha giocato tutto il tempo con i figli del fratello di Caled quindi Caled lui l'ha conosciuto quando è uscito dal carcere prima l'ha conosciuto e quindi ricongiunge la famiglia e dare ancora un profumo e un sapore più profondo all'idea di pace che parte dal basso si costruisce dal basso nella speranza che chi è più in alto riesca a tendere le orecchie e ascoltare che il desiderio della gente comune è quello di pace non della guerra poco fa Gabriele faceva riferimento a una poesia che diciamo è stata un po' l'ispirazione anche di questo percorso che abbiamo intrapreso insieme e che abbiamo sposato come comunità è una poesia di Don Tonino Bello che ha per titolo La pace come cammino e questa è la nostra idea di pace a dire il vero non siamo molto abituati a legare il termine pace a concetti dinamici raramente sentiamo dire quell'uomo si affatica in pace lotta in pace strappa la vita coi denti in pace più consuete nel nostro linguaggio sono invece le espressioni sta seduto in pace sta leggendo in pace medita in pace e ovviamente riposa in pace la pace insomma ci richiama più la vestaglia da camera che lo zaino del viandante più il comfort del salotto che i pericoli della strada più il caminetto che l'officina brulicante di problemi più il silenzio del deserto che il traffico delle metropoli più la penombra raccolta di una chiesa che una riunione di sindacato più il mistero della notte che i rumori del meriggio occorre forse una rivoluzione di mentalità per capire che la pace non è un dato ma una conquista non un bene di consumo ma il prodotto di un impegno non un nastro di partenza ma uno striscione di arrivo la pace richiede lotta sofferenza tenacia esige alti costi di incomprensione e di sacrificio rifiuta la tentazione del godimento non tollera atteggiamenti sedentari non annulla la conflittualità non ha molto da spartire con la banale vita pacifica sì la pace prima che traguardo è cammino e per giunta cammino in salita vuol dire allora che ha le sue tabelle di marcia e i suoi ritmi i suoi percorsi preferenziali e i suoi tempi tecnici i suoi rallentamenti e le sue accelerazioni forse anche le sue soste se è così occorrono attese pazienti e sarà beato perché operatore di pace non chi pretende di trovarsi all'arrivo senza essere mai partito ma chi parte col miraggio di una sosta sempre gioiosamente intravista anche semmai su questa terra si intende pienamente raggiunta queste le parole della poesia di Don Tonino Bello che continua a ispirare il nostro cammino e che speriamo possa portare ancora più frutto e soprattutto fermento di vita nuova anche in altre comunità e il desiderio di seguirci anche in questa direzione Gabriele non avevo sentito parlare di comodità di scomodità e di inquietudine gli sposi in pieno il percorso è troppo bello e troppo importante per lasciarlo così a metà e quindi questo sogno di questa famiglia che abbiamo fatto venire qui e se dovesse venire anche il fratello di Khaled col quale ci chiamiamo fratelli perché Khaled ci chiama fratelli e noi chiamiamo fratello lui ormai in modo così tranquillo e sereno che veramente è mio fratello e allora che venga anche suo fratello qui mi fa sorridere la cosa perché davanti a una cosa che è troppo bella ma si fa si trova il modo di farla senza pensarci troppo Ascoltiamo adesso la testimonianza di Khaled e Atlal per dialogare con Khaled ho utilizzato Google Translate Ascoltiamolo Atlal e Khaled raccontateci un po' di voi della vostra vita di come vi siete conosciuti di com'era la vostra vita prima della data del 15 marzo 2011 quando poi è iniziata la guerra civile La vita con la guerra diventa paura ansia paura di tutto ciò che esiste anche se vivi la tua vita deve essere diciamo calma stabile sicura e la sicurezza è proprio quella che inizia a mancarti per te per la tua persona per la tua famiglia e quindi ti perdi perdi il lavoro la tua casa i tuoi amici raccontaci cosa succede per la tua famiglia la devastazione tutta uccisione le persone innocenti perdono la vita decidi di lasciare la Siria per salvare la tua famiglia ma durante il viaggio cosa succede? Decisi di lasciare la Siria con tutta la mia famiglia e quando arrivò quel giorno quel momento raggiunto il confine mi hanno avvertito dell'arrivo della polizia e ho continuato però con la mia famiglia fino al Libano però alla fine sono stato arrestato Khaled ti senti di dirci qualcosa riguardo a questa esperienza che hai vissuto in carcere? Sì certamente non ho nessun problema a parlarvi dell'argomento però sì per me è molto difficile i ricordi sono molto difficili forti riguardo a questo momento così devastante della mia vita doloroso parlare di questo argomento la questione della detenzione di quello che succede all'interno del carcere in Siria è una questione molto delicata difficile molte persone ancora soffrono questa ingiustizia e questo mi addolora profondamente quando mi hanno portato ai reparti di sicurezza è stata una fase molto difficile, compresi gli strumenti di tortura e le cose che mi sono successe. La mia famiglia non sapeva nulla di me, fino a 8-9 mesi fa, quando ho saputo che ero negli uffici della sicurezza a Damasco. In questo modo la mia famiglia è venuta a conoscenza della mia situazione, di quello che stavo vivendo a Damasco, e quindi ha cercato di fare qualcosa. Sì, la mia famiglia scopre dove mi trovo, nei settori della sicurezza, è iniziata ad aiutarmi a pagare. La mia famiglia ha continuato a scoprire la mia famiglia, che mi sono andato a scoprire la mia famiglia e che mi sono andato a scoprire la mia famiglia, e che mi sono andato a scoprire la mia famiglia La mia famiglia ha continuato a pagare, con la speranza che fossi rilasciato. L'attesa è stata lunga, si pensava a domani, forse dopo domani, o dopo domani ancora, ma sono passati 9 anni, 9 lunghi anni. Arriva però quel giorno in cui sarai liberato, riabbraccerà la tua famiglia. Ho trascorso 9 lunghi anni cercando di resistere, con la speranza di uscire da questa grande prova che ho trascorso in prigione, per mano degli oppressori. Ovviamente il riuscito di essere liberi, uscire da prigione, ed essere rilasciato, è stato uno dei giorni più belli della mia vita. Sono andato in Libano ed è stato difficile, perché la situazione in Libano è brutta. Lì i siriani sono privati di tutti i loro diritti. Non è stato ovviamente più difficile in termini di torture o di quello che succedeva in prigione. Le torture che ho subito mentre ero in prigione a Damasco sono state veramente tremende. È stato difficile però psicologicamente, emotivamente questa mancanza di diritti. Alla fine ho scoperto che le cose stavano peggiorando per la mia famiglia, il Libano, e sono andato quindi all'organizzazione Operazione Colomba. Ho spiegato loro come era la mia situazione in Libano e ho presentato loro alcuni documenti che avevo con me. Mi ringrazio moltissimo questi volontari che ogni giorno lavorano lì in Libano per quello che hanno fatto per me, perché mi hanno accettato subito in primo luogo come persona. quando li ho incontrati. È stato brutto, poiché sul mio corpo erano visibili ancora le tracce di tortura. e ho venuto in questo giorno e ho cercato di andare all'Italia, all'Italia, al-Lakif, al-Karim e al-Monazzo, che avevano sempre con me. Passavano i giorni e continuava la mia conoscenza degli operatori, persone gentili e generose. Ringrazio tutta l'organizzazione Colomba. Mi ringrazio solo l'organizzazione Colomba perché è stata con me, ma anche il gruppo che mi ha abbracciato e sostenuto qui a Comiso. Mi ringrazio in nome mio e di tutta la mia famiglia, di tutto il mio popolo. Grazie al popolo italiano, grazie al popolo di Comiso perché sono stati molto gentili, molto compassionevoli, molto amorevoli con noi. Mi ringrazio anche la mia famiglia che è rimasta ancora in Libano. Aspetto che mio fratello e la mia famiglia vengano qui per essere sollevati da questo momento, da questa situazione dolorosa anche loro. Il nostro augurio è che tu riesca a ricongiungerti con la tua famiglia, a riabbracciare il tuo fratello e tutta la tua famiglia. Grazie. Grazie a tutti e a tutti. E mi auguro di questo anche perché la situazione è molto bella in Libano, perché la situazione voglia di essere in Libano. Ringrazio ancora tutti e tutte le persone che qui a Comiso stanno con noi vicini. E spero anche che la mia famiglia riesca a liberarsi dalla situazione pericolosa in Libano, perché a breve potrebbero essere deportati dal Libano alla Siria. E quando arrivano in Siria, la situazione è molto molto pericolosa. Il mio fratello si trova in Libano dal 2013 ed è ricercato, quindi è considerato un traditore. E questo lo considera il regime siriano, che lui è un traditore. Per questo sono veramente molto preoccupato per lui. La Siria sta vivendo una gravissima crisi umanitaria. Un tuo augurio per il tuo popolo. Spero che il popolo siriano possa vivere in pace, liberarsi da qualsiasi forma di ingiustizia e di conflitto. Questa è la mia speranza. Grazie a tutti. Grazie a voi per avermi dato questa opportunità di raccontare la mia testimonianza. E spero di imparare la lingua italiana in fretta, così la prossima volta ti capisco meglio e posso risponderti in italiano. E noi speriamo di capire qualche parola della tua lingua. Siamo noi a ringraziare te, Khaled, per averci raccontato e donato la tua testimonianza così forte. Grazie a tutti. Grazie ancora Khaled per averci donato la tua testimonianza, grazie di cuore e ti aspetto in radio. Grazie ancora a tutti alla radio, al gruppo, alla Gabriella, al Luca, alla Comiso, a tutti, grazie mille. Ci ha raggiunti anche Jebai Abdel Hamid che è responsabile del centro islamico di Vittoria e Comiso e anche loro hanno partecipato a questo progetto di accoglienza. Cosa ha significato per voi? Fa parte proprio della nostra attività, del nostro credo, non possiamo fare altrimenti. Specialmente noi veniamo da una realtà che sappiamo cosa significa vivere da profugo, oppure vivere la guerra, oppure la fame, tutti questi disagi. Quindi per noi è anche un momento di, oltre a collaborare con le varie associazioni, con la Chiesa, anche per dimostrare che siamo parte integrante di questa società, diciamo. Non essere sempre un po' indifferenti oppure sempre come ospite, perché alla fine la moschea è frequentata da immigrati, ma è un passo in avanti per far parte del tessuto e della società dove ci troviamo. Padre Innocenzo prima parlava di segni di pace, di essere costruttori di pace, operatori di pace, per costruire poi insieme un disegno di pace. Come immagini tu questo disegno di pace per la nostra società? La pace è il nostro essere, diciamo, perché questa è una dimostrazione che si può veramente vivere in pace nel rispetto della diversità, sia culturale che religiosa. Sinceramente io credo che non c'è nessun problema dal punto di vista ideologico, anche di fede, perché ogni religione, la base è trasmettere la pace, di vivere in pace, e soprattutto di collaborare, perché partiamo dal presupposto che Dio è unico e siamo tutti servi di Dio e portiamo questa parola, la parola di Dio e siamo una sola comunità nella fratellanza e nell'umanità. Quindi anche l'Islam è pace, la parola Islam, il saluto, il salam è pace, quindi trasmettere la pace e per vivere anche in pace con se stesso, al di là delle realtà, della politica, della storia, però alla fine la base è quella, è vivere in pace e scambiare soprattutto le idee in santa pace. Grazie Amid. Prego, prego. Salam alaikum alaikum. Visto che è arrivato Amid, invece di utilizzare un google traduttore, adesso abbiamo l'aiuto di Amid, che ci aiuterà a tradurre la testimonianza di Atral. Atral, com'era la tua vita prima dell'inizio della guerra, 15 marzo del 2011? Com'è incontrato Khaled? Com'è nato il vostro amore? Raccontaci la tua vita precedente, prima della guerra. Com'è CAPRI, Heaven? Buon Natale, lahil Tatale in Austria in 2017 è trye di una vita, tutto Genesis, come una vita più complicata, comunque si ha fossato un'ambilemente più difficile. La nostra vita prima del 2011 era una vita normalissima, era una bella vita, ma dopo la guerra è cambiato tutto. Prima abbiamo ascoltato la testimonianza di Khaled, infatti ha detto che a un certo punto decidete di lasciare la Siria, però durante il tragitto lui viene arrestato, dolore che è provato in quel momento. Quando abbiamo parlato con Khaled, quando aveva fatto fuori dalla Siria, ho fatto un'attività. Cosa hai avuto l'attività? Qui si è cambiato tutto come ho detto. Dopo che ho avuto l'attività di Khaled, qui si è iniziato la guerra in Sia, prima cosa ho avuto la sua città, ma ho avuto l'attività. Ora ora non ho finito. Dopo che ho apportato con Khaled, che lavorava con il plato, il cerramico. Ho apportato con lui, era un paese che lavorava con lui. Dopo che abbiamo chiamato, e poi avevo chiamato. E' un'altra cosa è che c'è il risultato, non c'è l'amante. E' un'altra cosa è che c'è il momento che voglio che voglio andare all'immagrazione. Quindi abbiamo deciso di andare qui. Prima, come dicevo, era una vita naturale, ci siamo conosciuti con Khaled. Dove lavora lui, dove lui fa il piastrellista. Poi si sono sposati tranquillamente. Però è cambiato tutto da quando è scoppiata la rivoluzione, la rivolta. Perché il popolo, dice, è ribellato. Voleva solo alcune riforme all'inizio, quindi non c'era tutta questa guerra. Poi è cominciato piano piano a peggiorare la situazione. Nel frattempo era incinta, non sapeva neanche dove andare, nell'ospedale. Siamo arrivati con Khaled e i miei, ma qui è un po' di risultato. Abbiamo fatto un numero e abbiamo fatto un po' di risultato. Abbiamo fatto un numero e abbiamo fatto un po' di risultato, ma il risultato è un po' di risultato. E qui Khaled è stato un po' di risultato. A questo punto hanno deciso di lasciare la Siria e di lasciare la propria famiglia. E hanno deciso di andare in Libano con la famiglia di Khaled, tutti insieme. Loro sono riusciti a passare, ma lui purtroppo no. E così si sono trovati in quella situazione. Quindi la separazione c'è stata che lui l'hanno portata per nove anni. Quello che ha raccontato lui praticamente. E lì diciamo ha cominciato il nostro calvario, la nostra sofferenza. Perché per sei mesi non sapevamo nulla di lui. Dopo sei mesi siamo riusciti ad individuare dove si trovava, diciamo, in quale carcere. Poi hanno saputo che è stato anche, che hanno avuto tortura. Quindi è passato un periodo di dolore, di ansia, di angoscia. Qui, dopo che mi ha riuscito a Libano, circa 3 ore, mi ha ucciso Nasser. Quindi questo è un po' di 2013. Poi quando è arrivato in Libano, dopo tre mesi è nato Nasser. Forse questa era la più bella cosa che ricorda, diciamo, la cosa positiva in tutta questa sofferenza, in questo cammino duro. È arrivato Nasser che ti ha dato quella spinta, quel coraggio di attendere anche tuo marito, di sopportare la sofferenza. Nasser è arrivato Nasser che ti ha dato quella spinta, quel coraggio, di attendere anche tuo marito, di sopportare la sofferenza. Certo, la nascita di Nasser mi ha dato forza a perseverare, avere pazienza, lotare e aspettare una fiducia. Ho, dopo aver riuscito a sapere, ho deciso di andare a Surya, poter riusciare a Surya, poter riusciare a fare qualcosa di riusciare. Ci sono stati molto anni, perché loro hanno pensato di tornare in Surya, cercare di risolvere i sopporti, cercare di aiutare. con tanta sofferenza alcuni l'hanno aiutato ma non riuscivano più a tornare in Sirio quindi hanno cercato un modo sempre ovviamente con tante difficoltà ad arrivare diciamo a cercare di farlo uscire ha vissuto con Nasser e la famiglia di Khaled in questo campo profugo finché non hanno incontrato gli operatori del progetto Colombo è stata la mamma subito appena uscita dal carcere a raggiungerli anche lì c'è stato un periodo abbastanza difficile andare dalla Siria passare diciamo il confino con tante difficoltà comunque quando li ha raggiunti subito hanno contattato gli operatori internazionali per poter inserirlo in questo progetto e farlo venire nel corridoio umanitario il momento in cui hai potuto orri a braccereca la ed racconta giallo cosa provato C'è un po' di spiegare, un po' di spiegare. Ma lei ha voluto raccontare Nasser come la prima volta ha visto suo papà. Allora ha detto dai datemi un pizzicotto per vedere se è un sogno oppure è vero che sto incontrando mio papà. Poi arriva il momento del viaggio per arrivare in Italia, una nuova vita qui a Comiso, nuovi amici, una comunità che vi accoglie, vi abbraccia e anche una nuova nascita. Arriva nostra figlia Maria. Dopo che arrivi qui, ho cominciato una nuova vita, specialmente con queste amici, che hanno avuto una nuova vita, specialmente quando si è morita Maria. Foglievi a loro vita una nuova vita in questo mondo. Sì, sì, alhamdulillah. Dopo anni, dopo anni di anni, è stata una buona vita, anche dopo che abbiamo avuto Maria. dopo tutti questi anni di sofferenza è cambiato molto soprattutto quando siamo arrivati a Roma poi a Comiso abbiamo visto veramente persone che ci hanno accolti con braccia aperte sorridente anche con la nascita di Maria tutti questi sono momenti felici che ci fanno dimenticare quegli anni di sofferenza perché tantissimi anni quindi voltiamo una nuova pagina positiva di una vita migliore e soprattutto serena La vostra speranza adesso è quella di ricongiungervi però con la vostra famiglia il fratello di Khaled e anche la mamma di Khaled e papà l'amale che hanno avuto un'attività di farle vivere in sicurezza comunale perché sono stati un'attività di un'attività di un'attività di un'attività di un'attività di farle vivere in sicurezza come noi perché specialmente in questi ultimi tempi in Libano si vive molto male perché c'è la guerra molto complicata per la vita La Siria è un paese devastato a livello materiale come dicevamo prima con tuo marito ma anche a livello psicologico, a livello umano sta vivendo ancora una gravissima crisi umanitaria il tuo augurio per il tuo popolo? Il mio piano è vivente messerà� nel bell'attività diください in比rezza sulla stezas all'attività molti Questi feriti il p beneficiels che pensi di più 안 sono buoni hanno non sono Grazie a tutti, grazie veramente di cuore. Grazie a tutti e a tutti i amici di Comiso che sono stati sempre con noi. Non ci hanno lasciato mai un attimo da soli per tutto l'aiuto e il sostegno che ci hanno dato e continuano a darci veramente tutto il rispetto e il ringraziamento a voi tutti di Comiso. E siamo noi ancora una volta a ringraziarvi per la vostra testimonianza e per la vostra ospitalità. Grazie a Tlal, grazie a Khaled, grazie a Gabriele, a Padre Innocenzo, a Luca e a Damid. Grazie. Grazie a Cioccolano e a Likomukul. Vi ringraziamo per averci seguito.